Nuovo impulso alla crescita dell'aeroporto internazionale di La Mezzia Terme, destinato a un futuro sempre più baricentrico nel sistema dei trasporti in Italia. La SACAL, società che gestisce i tre scali calabresi, ha pubblicato una manifestazione di interesse per l'affidamento in subconcessione di spazi nell'aeroporto, da destinare alla realizzazione di hangar per la manutenzione di aeromobili. Una struttura di questo tipo in Italia esiste solo all'aeroporto Oriel Serio di Bergamo, uno degli scali con il maggior volume di traffico in tutta Italia. Si tratta di un modo per avere stabilmente rotte aeree facendo divenire La Mezzia un hub per la manutenzione e un academy per piloti. SACAL intende affidare gli spazi aeroportuali ad operatori economici che, oltre ai requisiti generali previsti dalla legge, abbiano una comprovata esperienza, almeno triennale, nella gestione di attività similari in altri aeroporti italiani o internazionali. Gli operatori interessati hanno tempo fino al 26 giugno per presentare la manifestazione alla subconcessione. Sempre SACAL ha avviato le procedure per l'aumento di capitale e quindi, prevedibilmente, per un aumento degli investimenti, oltre che sulla mezzaterme, anche sugli scali di Crotone e Reggio Calabria.